buonasera amici di nova news 24 all'uscita del grande fratello vip di ieri sera di antonella murgia succede veramente di tutto nella notte la follia dei donna lisi insulti nel parcheggio quando i fan diventano fanatici succede veramente un macello l'intervento in puntata a favore di edoardo e antonella di nicole murgia e tutto quello che è successo hanno scagliato proprio la murgia contro i fan i donna lisi sono stati i protagonisti anche dopo la puntata e da ieri non si parla di altro dopo la puntata si è diciamo consumato un piccolo malinteso nel parcheggio del grande fratello vip si è parlato praticamente solo di loro ieri sera dei donna lisi di andoardo ed antonella ma soprattutto grazie alla clip creata con nicole murgia è stata incentrata la puntita la puntata su di loro dice proprio la murgia di aver fatto toccare il seno edoardo per vedere se la protesi era fatta bene la fior delisi ha cominciato a piangere come sappiamo ed è successo veramente di tutto alla fine è stato dato fuori anche che edoardo ha toccato con queste due dita il seno della murgia ma non sembra che quello abbia preoccupato più di tanto la fior delisi ma più le clip basate su abbracci baci e via dicendo eppure nella notte edoardo e antonella si sono riavvicinati hanno parlato come detto nei nostri articoli ma ancora non sono tornati insieme eppure donna maria vuole riprendere la sua antonella ha fatto il mea culpe ha detto era finita già un mese fa l'ho detto solo perché mi trovavo in difficoltà ma proprio i fan di donna lisi sono stati protagonisti ieri sera dopo la puntata in studio c'era una buona parte del fandom a urlare e applaudire ma fuori ce n'erano altri signorini ha chiamato al centro dello studio una fanna canita delle dei donna lisi che vuole assolutamente ritrovare i due insieme nella prossima puntata i donna lisi però nel parcheggio hanno insultato nicole murgia l'attrice è stata eliminata ma hanno incontrato la murgia e le hanno urlato brutte parole che non vi stiamo qua a ripetere volevamo tranquillizzarla hanno detto gli amici anche se hanno cercato di affossarla le uniche che si sono affossate sono coloro che hanno fatto le pazze in prima serata per una ship di me ha detto la murgia per sempre famosa non ti amiamo questo è racconto su twitter dove si è diffusa la notizia per il momento nicole murgia non ha commentato gli insulti dei fan dei donna lisi nel parcheggio tutto molto triste non c'è molto da aggiungere quindi questi insulti sono partiti proprio dopo la puntata amici di nuova news 24 il grande fratello è un gioco e non si dovrebbero vedere sicuramente queste cose amici di nuova news 24 diteci voi cosa ne pensate intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci su nuova news 24